ciao a tutti ecco siamo quasi arrivati a valletta oggi vi farò vedere in hyperlapse questa bellissima città la capitale di malta ciao a tutti qui siamo nel cuore di valletta al centro quella che vedete dentro di me è la cattedrale di san john dove c'è all'interno si può andare a visitare un'opera del caravaggio del nostro caravaggio la decollazione di san giovanni è decollato la decollazione di san giovanni ed è qua dentro chiunque può andare entrare e vederlo niente si vede l'ambientazione natalizia si può vedere già è anche se non è l'otto dicembre già parecchi giorni che a malta cominciano a decorare e ad addobbare la città mi trovo dove c'è il palazzo del presidente della repubblica il palazzo del gran maestro costruito dai templari dal gran maestro pintu e adesso usato dal presidente della repubblica come palazzo residenziale questo è la piazza là dove ci sono quelle due caritte c'è di solito il cambio della guardia tipo in grecia qua lo usano pure ogni due ore fanno il cambio della guardia questa è tutta la piazza dove c'è questo palazzo della repubblica da lì arriva questa musica natalizia spero vi sia piaciuto il mio video realizzato in timelapse per farvi vedere velocemente malta ci vediamo alla prossima grazie e poi vi farò vedere altri pezzi di valletta questo qua è solo il pezzo di valletta principale poi in altri video vedrete altri scorci e altri visuali di valletta ciao iscrivetevi al canale non dimenticato lo mettete mi piace se vi è stato utile questo video io vi saluto ho altre cose da fare ciao